Verso la Juve Real. L'allenatore della Juventus ha anche annunciato un uso di Perin e Mecichegnie. Juventus, una camicia da viaggio in edizione limitata negli Stati Uniti. Uno di cinque slideshow di Twitter allarga Twitter Zoom. Twitter, Twitter, Twitter. Twitter uno di cinque zero slideshow allarga Zoom Massimiliano Allegri al Juventus Twitch Channel. Parlando delle sfide contro il Real Madrid che hanno chiuso il tour americano. Giocherà in porta perché la tecnologia ha un problema con l'adductora spiegato. Didi Maria. Coloro che sanno come giocare a calcio come Angelo sono felici di vederli, con palle e senza palle. Questo è diverso e sono riusciti a fare cose che sono diverse da tutti. Ruolo? Molto bene per comprendere lo sviluppo di il gioco che dobbiamo farlo, siamo bravi a innescare il meglio. L'allenatore Tuscan è anche soddisfatto dell'impatto di Bremer. Lo ha fatto bene, è un ottimo difensore, ha una grande qualità. Tutti i nuovi acquisti devono integrarsi nel gruppo. Budget e linea di linea stella. Sono otto ottime giorni lavorativi. Abbiamo l'ultima partita amichevole, quindi torneremo. Tutto produce il meglio, dobbiamo prepararci per il primo campionato. In campionato. Quest'anno sarà una stagione strana, sono due campionati. Fino alla Coppa del Mondo e nel 2023. Dal 28 agosto avremo una partita ogni tre giorni. Speriamo di essere ben preparati. Vedi anche Juventus, Max vuole sempre Morata. L'alternativa è un duello con Napoli per Raspadori.